Alberto di Cantina di Soave, è la cantina di questo luogo in pratica, lo dice anche il nome, la cantina sociale, quella che produce di più, sbaglio? Sì, senz'altro, però all'interno della molta produzione che fa Cantina di Soave abbiamo saputo trovare degli spazi di qualità ottima che danno vina a dei marchi importanti, quali il nostro marchio Rocca Sveva, è la realtà più importante del territorio e quella che riversa tutte le risorse appunto sul territorio stesso, basti pensare ai 2200 soci conferitori, a tutto l'indotto legato a quello della nostra realtà, quindi è una realtà importante che sa fare sistema attraverso le nostre strutture, ma soprattutto sa collaborare anche con le piccole realtà private. Eco-compatibile, eco-sostenibile, amica dell'ambiente, verde, possiamo dire tutto quello che si vuole, che cosa fate per esserlo? Anche questo è un po' un dato in contrattendenza se vogliamo, perché dove sembrerebbe che la meccanizzazione, anche alla luce dei costi di produzione che sono sempre più importanti, possa essere l'arma vincente per il futuro, noi stiamo incrementando quelle che sono realtà delle nostre aziende che vanno a fare la raccolta ancora manuale, quindi questo è un aspetto molto importante, quindi Cantina di Soave che anche all'occhio di riguardo, se così si può dire, alla natura. Mi pare anche logico, visto che i vigneti sono a un passo dall'abitato, se noi poi li irrorassimo di veleni, poi avveleneremo stesso la gente che vive qui da queste parti. Questo è già un pezzettino che siamo avanti sotto questo punto di vista, grazie a Dio, Cantina di Soave investe molto anche sulla ricerca, quindi anche sotto questo punto di vista, come ti dicevo, siamo un bel passo avanti. Bravi e grazie, ciao Alberto.